Allora, bentornata al senatore Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Intanto io le chiedo una cosa. Guardo Chiara Geloni, adesso vi spiegherò il perché. Bentornata Chiara Geloni. Grazie, buongiorno. Una volta quando si invitavano gli esponenti al Partito Democratico, anche per chiarezza, si diceva da che parte stai, sei un renziano, sei un antirenziano, e poi le tante altre correnti. Io le chiedo, siccome forse è una semplificazione, è stato detto, c'è chi tra voi rimpiange l'accordo, l'alleanza con la Lega? C'è chi vorrebbe un'alleanza più strutturale, non sappiamo poi cosa voglia dire, col Partito Democratico, c'è chi dice noi siamo alternativi a destra e a sinistra, siamo la terza via. Lei da che parte sta? Eh, così, tanto per chiarirci subito. Io penso che noi non dobbiamo stare... Non dobbiamo... Siamo ancora una volta, è una cosa che abbiamo detto tante volte, siamo ancora una volta a questa schematizzazione, che io continuo a rifuggere. Noi dobbiamo semplicemente fare alcune cose. E le cose che dobbiamo fare è cercare di fare l'interesse dei cittadini, partendo da quelli che sono i dati. Quando noi abbiamo messo in campo alcune misure, sulle quali abbiamo molto lavorato, come il reddito di cittadinanza, come aumentare la possibilità di finanziare le piccole e medie imprese, queste cose qua, o i temi sull'ambiente, ancora una volta dico, sono temi di destra o sono temi di sinistra. Perché dobbiamo inseguire continuamente questa cosa? A me non piace. Non credo che sia una discussione sul chiamarsi liberali o chiamarsi socialisti, usiamo dei termini antipici. Sì, sono per capirci. Esatto. Ma è una discussione semplicemente nel fare le cose giuste. Alcune cose che sono nel nostro DNA, come il tema dell'ambiente, è presumibilmente più semplice farle con coloro che si richiamano a ideali che possono venire da una storia di sinistra, se la volete mettere così. Alcuni temi che riguardano... Lei dice che la destra non ha una vocazione ambientalista, insomma. Diciamo storicamente non ha mai avuto una vocazione ambientalista. Mentre ci sono alcune cose le quali si ragiona indubbiamente meglio con forze che si richiamano ideali liberali. Però il tema, ancora una volta, è sempre quello. Non è fare la terza via con tutte le sconfitte. Ricordo Blair, quella storia antica. Noi dobbiamo semplicemente concentrarci sui temi. Allora, ancora una volta, quello che dobbiamo fare è rimettere al centro del dibattito i temi. E i temi sono sempre gli stessi. I temi sono la connettività, sono i trasporti, sono l'ambiente. Sono le 5 stelle, non è che è una cosa così particolarmente difficile. Quindi noi dobbiamo ripartire da quello, ma con una grande forza, con la voglia di essere ancora al servizio. Se no, noi sbagliamo completamente l'obiettivo. Schierarsi in un campo o nell'altro non produce effetti concreti nella vita. Posso usare uno slogan che ha usato ieri l'attuale ministro del lavoro, Catalfo, che una vostra esponente ha detto io non credo che ci siano idee di destra o di sinistra, ma ci sono buone idee. E' sempre stato questo il nostro mantra. Allora, io non so gli italiani se siano più o meno appassionati, lo diceva mi pare Crimi prima, a queste vicende, piuttosto invece sono molto interessati ai problemi concreti. Vi voglio mostrare però la copertina del fatto quotidiano di oggi, la prima pagina, sempre a proposito dei tormenti, mettiamolo così all'interno del Movimento 5 Stelle. Guardate, parte la corsa tra Contiani, Dibba e Di Maiani, che è pure difficile a pronunciarsi. A un mese dagli stati generali del Movimento 5 Stelle Di Battista prepara una mozione antiliberista. La Castelli frontwoman per Di Maio, Patuanelli, che è l'attuale ministro dell'industria e lo sviluppo economico, Taverna e Grillo pro-governo. Insomma, però, questo titolo di un giornale ben informato sulle vostre vicende riflette forze delle... Questo titolo è la plastica rappresentazione del correntismo, che io rifuggo nel profondo. Il correntismo è un delirio che ha distrutto molte forze politiche e noi dobbiamo assolutamente evitarlo. Il correntismo si fa con le emozioni e si votano le emozioni per pensare le correnti. Questo lo eviteremo sicuramente. Due domande secche. Ieri la riunione dei parlamentari è stata vivace come riunione, o no? Non più di tante. Non più di tante altre, dice? Ma perché Toninetti dice troppe interviste ai giornali? Perché? Perché è il momento di ragionare su cosa vogliamo fare, sui temi che vogliamo portare... Prima di esternare, dice. Prima di esternare dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare a studiare e impegnarci con questo. Non c'è bisogno che ognuno vuole posizionarsi. Senta, ma gli Stati Generali sono rimandati, come si sente dire, dopo il voto del referendum del 29 marzo o no? Non abbiamo ancora ragionato su questo tema. Certo, adesso c'è la data del 29 marzo, quindi dovremmo valutare... E crediamolo qui, scusi, il referendum sul taglio dei parlamentari. Il referendum sul taglio dei parlamentari, che è una nostra battaglia, ci siamo molto impegnati. Dovremmo ragionare su cosa è meglio fare. Certo, c'è un problema di sovrapposizione di due cose importanti. Anche perché c'è una campagna referendaria da fare. Uno riguarda un ragionamento interno al Movimento 5 Stelle e l'altro è una battaglia referendaria sulla quale dobbiamo impegnarsi. Allora adesso... Ma intanto le chiedo, ma perché il Movimento 5 Stelle, che credo in una delle stelle originarie, no? Sviluppo ambiente. Sviluppo ambiente, non si trasforma nel partito ambientalista che in Italia non c'è. Non lo so, eh? Lo chiedo. Vedi, non è un tema di trasformarsi nel partito ambientalista. La vera esigenza è continuare a coniugare le due stelle, in questo caso. Ambiente e sviluppo. Noi dobbiamo far sì che questo Green Deal, di cui tutti parlano, sia una vera occasione di rilancio industriale. Perché poi i posti di lavoro si creano con le aziende che lavorano. E questo è un esempio, questo è un bel esempio, quello che avete fatto vedere. A Teverola si lavora per fare questa grande azienda che farà batterie al litro. Le batterie al litro sono un tema importante per la mobilità, per tante cose. La Cina è il leader, ricordiamolo perché riprenderemo dalla Cina. I due grandi paesi competitor con i quali l'Italia e l'Europa si sono confrontate, che sono gli Stati Uniti e la Cina, sono i paesi che detengono le grandi produzioni di batterie al litro. Quindi l'Europa deve rispondere ai progetti precedenti, di cui parlava l'intervistato, sono i grandi progetti in cui l'Europa finalmente decide che gli aiuti stati si possono dare. Perché solo in questo momento non riusciamo a entrare in maniera forte nel mercato e dare una risposta comune. Quest'Europa va bene, poi ci sono tutta un'altra serie di tempi sui quali l'Europa, fa malissimo. Però noi dobbiamo concentrarci su questo. Quindi non è un problema di trasformarsi in quella forza ambientalista di cui parlava lei. Noi dobbiamo trasformarci in una grande forza di trasformazione industriale, di cui questo paese ha tanto bisogno, per rimettere in campo quella energia fondamentale e incredibile che serve a immaginare il futuro. Allora, questo passa attraverso l'ambiente? Assolutamente sì. Passa attraverso le piccole imprese che ritornano a essere sempre più forti, che dobbiamo supportare? Assolutamente sì. Passa attraverso l'idea che il Movimento 5 Stelle non muore come vorrebbero tanti? Assolutamente sì. E qua vado a qualche risposta. Vado a qualche risposta. È un vecchio tema. Tutti vorrebbero che il Movimento 5 Stelle morisse? Beh, do a tutti la notizia. Il Movimento 5 Stelle morirà quando i partiti smetteranno di essere quello che hanno prodotto la nascita del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce perché i vecchi partiti avevano demolito il concetto di servire il popolo, per usare dei termini antichi, se volete. Bene, allora è il momento di ricominciare a fare le cose per i cittadini. E io non lo vedo nelle forze conservatrici. Vogliamo fare qualche esempio? Vogliamo vedere cosa ha prodotto il governo della Tatcher? Ma parliamo e andiamo fuori dall'Italia. Nel periodo tracceriano le disuguaglianze sono aumentate. Ci sono degli indici che rappresentano le disuguaglianze. Si è passato un indice di renta al 1908. Vogliamo parlare dell'ambientalismo di Trump per parlare di un altro esponente conservatore quando continuo a sussidiare le fossili. Di cosa stiamo parlando? Allora noi dobbiamo avere il coraggio di agire. Ti informo ufficialmente che l'ambientalismo di Trump è uguale, identico a quello di... Benissimo. Infatti sono un paese liberista. È un vecchio problema unitario del paese liberista. Tutti i paesi liberisti hanno prodotto un incremento fortissimo delle disuguaglianze. Se vedete la ricchezza posturata al top 1% degli Stati Uniti, cioè l'1% più ricco, è arrivata a un valore di 20, cioè il 20% della ricchezza degli Stati Uniti posturata all'1%. Il bottom 50, cioè il 50% più povero, è sceso al 20% della ricchezza totale al 12,5%. Quindi c'è un'incredibile sperequazione della distribuzione della ricchezza. Per non parlare del fatto che le prime società per capitalizzazione al mondo sono le grandi società statunitensi a cui si affrangano le società cinesi dell'hightech. Quindi noi dobbiamo inserirci in questa competizione e l'Italia deve fare la sua parte. Quando abbiamo pubblicato la strategia del governo sull'intelligenza artificiale, che è un gran tema, che vede la grande competizione negli Stati Uniti e la Cina, abbiamo messo in campo la forza propulsiva dell'Italia che deve fare necessariamente insieme agli altri paesi europei. Noi siamo una grande competizione, dobbiamo avere il coraggio di fare le cose. Come sono i rapporti con Conte? Ottimi. Io sono stato sottosegretario, come lei sa, allo sviluppo economico del governo con delle forze conservatrici, per usare il termine che è stato usato prima. Oggi i rapporti, ovviamente, non come erano. No, i rapporti sono ottimi, con Conte abbiamo lavorato insieme su tantissime cose. Trovo che sia un fantastico Presidente del Consiglio. Eh, no, perché se lei sa, no. Cioè, per molti Conte era espressione del Movimento 5 Stelle, oggi dicono, no, si è spostato dall'altra parte con il Partito Democratico. Insomma, va bene, questo non è un segreto quello che si legge, si scrive e si dice. Ribadisco il fatto che il Presidente sta lavorando su una serie di temi. In questo momento abbiamo un'alleanza di governo programmatica, chiamatela come volete, con il Partito Democratico e lavoriamo con il Partito Democratico bene su molti temi, così come abbiamo lavorato bene su tanti temi con la Lega. E questo ci contraddistingue, non nell'essere di destra o di sinistra, ma nel fare le cose e di imporre i nostri temi. Sì, poi però bisogna scegliere, perché ci sono dei temi su cui bisogna scegliere. Ma certo, i temi, i temi... No, è l'azione di governo, voglio dire. Sono d'accordo con lei, infatti quello che deve essere al centro è l'azione, perché voi cittadini vogliono azione, quindi bisogna trasformare la volontà espressa in azione. Su questo sono molto d'accordo. Chi sarà il nuovo capo del Movimento 5 Stelle, capo politico? Il capo del Movimento 5 Stelle è sempre il cittadino, come è sempre stato. Grazie, grazie a tutti voi.